Buongiorno a tutti, benvenuti al Training Camp. Ci troviamo in presenza delle squadre Giliberti e De Luca. Alla mia destra abbiamo... Giorgio Spina Mario Romano Daniele Sibillo Rossino De Luca Luigi Cerone Alessandro Camp Giulio Amalfugli E alla mia sinistra... Rania Giliberti Rania Napolano La partita è terminata con la vittoria di De Luca per 2-1 con il gol di Cerone Calandrelli per De Luca mentre per Giliberti per Rania Rania Cosa ne pensate la partita ragazzi? Non devo parlare di Agostino Visto che voi avete vinto Allora ragazzi abbiamo giocato sicuramente bene però ci sono ancora tante cose da migliorare sicuramente l'aspetto tecnico purtroppo abbiamo subito un gollo ma stavamo senza portiere Va bene, mentre voi che avete comunque perso? Abbiamo giocato male, mancavano un paio di giocatori importanti Ci rifaremo alla prossima partita Va bene, quindi alla prossima e un bacio alla Mavericks Grazie 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 Grazie